Non potrà avvicinarsi alla moglie e alle figlie, si tratta di un gelese di 47 anni indagato per maltrattamenti in famiglia continuati. I poliziotti del commissariato di Gela hanno eseguito la misura cautelare che prevede anche il divieto di dimora nel territorio della provincia. Con il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica, è stato prescritto all'indagato di mantenersi almeno a 300 metri di distanza dai congiunti e di non comunicare con gli stessi senza preventiva autorizzazione del giudice. L'uomo ha posto in essere continui atti di violenza psicologica costituiti da minacce, atteggiamenti denigratori e vessatori nei confronti della moglie. Proferendo le frasi del tipo ti sparo in testa ti porterò al punto da farti buttare dal balcone alla presenza delle figlie. Il clima di terrore e paura creato dall'uomo tra le mura domestiche cui la coniuge e gli altri componenti delle nucleo familiare dovevano sottomettersi in qualità di marito padrone ha provocato nella donna un documento psicologico e deperimento fisico costringendola a lasciare Gela e trasferirsi in un altro comune.